Il nuovo GLA è l'ultimo SUV nato in casa Mercedes. Più alto, più sportivo, dalle linee dinamiche e dal frontale scolpito, con un ricco equipaggiamento già dalle versioni più basse. Dentro a GLA ci sta proprio tutto. I suoi nuovi motori puntano al massimo dell'efficienza senza trascurare le performance e il divertimento. Dai 116 CV del 180 DA Automatic fino ai 421 CV del GLA 45S 4Matic Plus, che è capace di percorrere da 0 a 100 km orari in soli 4,3 secondi. Il fiore all'occhiello è la nuovissima GLA 250 EQ Power, con 218 CV complessivi e un'autonomia impuramente elettrico fino a 70 km. Tutte le GLA hanno il cambio automatico di serie e grazie al Dynamic Select è possibile scegliere il tuo mood di guida preferito e addirittura personalizzare le impostazioni. Con la trazione integrale 4Matic c'è anche la modalità aggiuntiva off-road. Insomma, GLA è pronto a dominare tutte le strade, sia di città che fuori, senza per questo dover rinunciare al comfort e alla sicurezza. Lo spazio a bordo del GLA è più ampio e il suo vano posteriore è più spazioso e più versatile. È infatti possibile scegliere di aumentare lo spazio per le gambe o di ampliare la capacità di carico, mentre con lo scorrimento dei sedili disponibili a richiesta il divano posteriore può scorrere in avanti di 9 cm e complessivamente di 14 cm. A bordo il sistema di intelligenza artificiale MBUX con Mercedes-Me e comando vocale è in grado di comprendere ogni richiesta anche espressa con linguaggio indiretto. La climatizzazione, ad esempio, reagisce direttamente alla frase «O' freddo» aumentando la temperatura. Completano l'eccellenza tecnologica già nella versione di ingresso, la telecamera posteriore, il touchpad e la moderna plancia con doppio schermo digitale. Inoltre la sicurezza a bordo è quella che ti aspetti da una Mercedes. Ai massimi livelli grazie ai sistemi di assistenza alla frenata attivo e antisbandamento attivo di serie. Tra gli equipaggiamenti a richiesta più tecnologici c'è il pacchetto Energizing con numerose regolazioni, microclima, illuminazione dell'abitacolo e riproduzione musicale e che offre consigli personalizzati analizzando i dati del tragitto e dell'auto, tenendo conto di aspetti quali la situazione del traffico, il meteo o la durata del viaggio. In presenza di uno smartwatch o un fitness tracker compatibile e collegato permette addirittura di allenarsi. Rileva infatti le condizioni del guidatore e seleziona il programma fitness o wellness più adatto. Preparati a vivere un'esperienza nuova sulle strade di tutti i giorni. Nuovo GLA libera la tua voglia di surro. Nuovo GLA libera la tua voglia di un'esperienza nuova sulle strade di tutti i giorni.